Mettiamo un attimo da parte i tutorial sulla linea di comando per rispondere ad una domanda di Francesco Zannino. Quando ai tempi voglia mi piacerebbe vedere un tutorial di come si crea un software con Linux, nel senso organizzativo, tipo gli autotools per esempio, e non di pura programmazione. Se hai già qualche link che non sia troppo ostico va bene anche quello. Grazie! Facciamo quindi una panoramica su cosa serve per sviluppare un software su Linux, quali tool ci sono a nostra disposizione e a cosa servono. Ma prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. La primissima domanda che devi farti è Che linguaggio di programmazione utilizzi? Infatti i tools cambiano a seconda del linguaggio di programmazione scelto. Tutti i linguaggi relativamente moderni hanno dei veri e propri package manager, simili a quelli utilizzati nelle varie distribuzioni Linux, ma specifici per i vari linguaggi di programmazione. Visto che in un sistema Linux non scriverai mai un software totalmente da zero, ma ti appoggi a librerie scritte da altri, il package manager specifico del linguaggio di programmazione assicura che tutte le librerie da cui dipende il tuo programma siano installate. Su Python questo compito è svolto dal software chiamato PIP. Se vuoi vedere PIP in azione, guardati il tutorial che ho fatto per il file manager ARNAR. Se ci fai caso, vedi che quando installo ARNAR, PIP installa automaticamente anche le sue dipendenze. Analogamente a Python, su JavaScript o più precisamente su Node.js, il package manager si chiama NPM. Per quanto riguarda Rust invece c'è Cargo, che oltre che scaricare le dipendenze, visto che Rust è un linguaggio compilato, Cargo si occupa anche di compilare tutto ciò che serve per il tuo programma. Puoi vedere Cargo in azione nel video che ho fatto riguardo ad Archive FS. E per quanto riguarda C o C++? Vedi, il fatto è che C e C++ sono linguaggi molto vecchi. Il C è nato negli anni 70, mentre il C++ è nato negli anni 80. E a quei tempi il panorama informatico era totalmente differente rispetto ad oggi. Per esempio c'erano tante varianti commerciali di Unix, ognuna con le proprie differenze. In più, non c'era internet, o almeno non come lo conosciamo oggi. E questo significa che non esiste un package manager standardizzato per i software in C e C++. Ma andiamo a vedere di quali software hai bisogno per compilare un software scritto in C o C++. Prima di tutto ti serve un compilatore C o C++ per trasformare il tuo codice sorgente in linguaggio macchina. Nella toolchain GNU questo è fornito dalla suite GCC. Poi hai bisogno di un linker, per far sì che tutti i file del tuo progetto e tutte le librerie formino un unico eseguibile. Nella toolchain GNU questo è fornito da LD, che fa parte del pacchetto binutils. Hai anche bisogno di un build tool per poter eseguire comodamente le operazioni di compilazione e link con un unico comando in maniera intelligente, compilando solo il necessario. Nella toolchain GNU questo è fornito da make. Infine ti serve un tool per generare il make file. Nella toolchain GNU questo è fornito da autoconf e automake, detti anche autotools. Hai bisogno di questo perché non tutti i sistemi operativi funzionano allo stesso modo. Di conseguenza c'è bisogno di generare un make file su misura per il sistema operativo e anche sull'architettura dei microprocessor utilizzati. In più, certi progetti hanno delle dipendenze opzionali che puoi scegliere al momento della compilazione ed il make file è generato su misura anche in base a quali dipendenze scegli di includere o meno. Ora, sebbene la toolchain GNU sia ancora utilissima, alcune parti della toolchain, in particolare gli autotools e make, soffrono di problemi di vecchiaia, quindi oggi sono considerati lenti ed inutilmente complessi. Possiamo sostituire alcune o tutte le parti della toolchain GNU con alternative più moderne. Al posto di GCC possiamo utilizzare il compilatore Clang, che fa parte della suite LLVM. Sotto Linux, Clang non ha grossi vantaggi rispetto a GCC, ma se scrivi software multipiattaforma che girano anche su Windows e Mac, potresti voler utilizzare Clang di modo da avere lo stesso compilatore su tutte le piattaforme, come per esempio succede per la compilazione del browser Firefox. Se usiamo Clang come compilatore, allora possiamo anche fare il passo successivo e sostituire il linker con LLD, che fa parte sempre della suite LLVM. Al posto di Make possiamo utilizzare il tool Ninja, che permette build più veloci rispetto a Make. Infine, per generare il make file o il file build per Ninja, possiamo utilizzare CMake oppure Maison al posto degli autotools. Sia CMake che Maison sono molto utilizzati ed entrambi si equivalgono più o meno a livello di funzionalità e semplicità. Per capirci, non è che o usi tutta la toolchain GNU o usi tutta la toolchain alternativa che ti ho detto. Puoi usare tutta la toolchain GNU, ma sostituire solamente gli autotools con CMake, per esempio. Oppure puoi utilizzare gli autotools e make ma sostituire GCC con Clang. Anche se dire il vero questo è molto raro. Altra cosa. Tutte queste scelte te le ho dette dal punto di vista di un programmatore. Non è che se trovi un progetto in giro che usa gli autotools e lo vuoi compilare, allora tu decidi di usare Maison. Se il progetto ha scelto gli autotools, tu per compilarlo userai gli autotools. Ma veniamo alla pratica. Ho scelto tre pacchetti a caso per mostrarti come si usano le varie toolchain. Ma prima dobbiamo installare qualche tool di sviluppo sul nostro sistema. Sui sistemi basati su Debian installi la toolchain GNU installando il pacchetto Build Essential. Ma come vedi io ce l'avevo già installato. Andiamo a installare anche CMake e Maison. E vedi che installa come dipendenze anche il pacchetto Ninja Build. Bene, ora abbiamo tutto ciò che ci serve. Scompattiamo il pacchetto M4 che avevo precedentemente scaricato dal sito GNU. Vedi che c'è uno script chiamato Configure. Bene, questo script è esattamente ciò che viene prodotto dagli autotools. Eseguiamolo e vedi che sta facendo una marea di controlli. Non voglio velocizzare il video ma voglio piuttosto farti vedere che essendo Configure uno script scritto in Bash puoi notare che è piuttosto lento. Questo script ha generato il Makefile. Compiliamo il progetto col comando Make. Make a sua volta invoca automaticamente il compilatore ed il linker e genera tutti gli eseguibili per questo progetto. Il passo successivo sarebbe un sudo Make Install per installare gli eseguibili appena creati nelle directory opportune ma in questo caso non lo faccio perché ho compilato questo pacchetto solo per farti vedere come funziona la compilazione con la dolce GNU. Passiamo ora a vedere come funziona la compilazione con CMake prendendo come esempio il pacchetto Brotli. Come puoi vedere esiste un file chiamato cmakelists.txt e quello è il file che contiene tutte le istruzioni per CMake. Solitamente si usa una directory separata per compilare un progetto CMake quindi andiamo a crearla e spostarci lì. Il comando per generare il Makefile è cmake seguito dalla directory che contiene il file cmakelists.txt in questo caso la directory precedente quindi punto punto e vedi che la generazione del Makefile ci ha messo molto meno tempo che con gli autotools. A questo punto per compilare dai sempre il comando Make. Ci mette un po' a compilare quindi non è detto che non velocizzi poi questa parte del video per non annoiarti. Il tempo di compilazione di un pacchetto ovviamente dipende da quanto è grosso. Più file sorgenti hai e più sono grossi questi file sorgenti più tempo ci metti a compilare. Finita la compilazione potrei fare un sudo MakeInstall ma come prima non lo faccio. Una caratteristica interessante di CMake è che non solo è in grado di generare Makefile ma è anche in grado di generare file di build per Ninja. Ora elimino la directory di build utilizzata in precedenza per Make ed una volta ricreata basta dare a CMake l'opzione "-g ninja per generare i file di build per Ninja. E vedi che al posto del Makefile ha generato un file chiamato build.ninja. Questa volta per compilare uso il comando ninja e se prima ho velocizzato il video non te ne puoi accorgere ma fidati che la compilazione con Ninja è nettamente più veloce che la compilazione con Make. Passiamo infine a Amazon prendendo come esempio il pacchetto P11Kit. Una volta scompattato puoi vedere che c'è un file chiamato meson.build che contiene tutte le istruzioni per Mason. Come abbiamo visto poc'anzi con CMake anche per Mason facciamo la build in una directory separata anche se questa volta la directory la crea Mason stesso. Entrando nella directory di build vedi che è stato generato il file build.ninja. Andiamo quindi a compilare il tutto usando Ninja. Come per i progetti che usano Make anche qui se volessi dare il comando sudo ninja install mi installerebbe tutto. Spero di aver risposto alla domanda con questo video. Prima di concludere se anche tu hai delle domande o curiosità sul mondo di Linux, della programmazione o del retrocomputing in particolare su MS-DOS che vuoi che io tratti in un prossimo video fammelo sapere scrivendo un commento qui sotto. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! Doh oh. Perché ho compilato questo pacchetto solo per farti vedere come funziona la tua... Grazie. Ciao! 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 Grazie.